ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerò in bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco alovex labiale ricordati industria chimica e farmaceutica spa ultimo aggiornamento 20 luglio 2021 cosa alovex labiale confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere alovex labiale durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli accipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cosa alovex labiale alovex labiale è un farmaco a base del principio attivo aciclovir appartenente alla categoria degli antivirali e nello specifico antivirali è commercializzato in italia dall'azienda ricordati industria chimica e farmaceutica spa alovex labiale può essere prescritto con ricetta otc medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco confezioni alovex labiale 5 per cento matita cutanea applicatore da 3g informazioni commerciali sulla prescrizione titolare ricordati industria chimica e farmaceutica spa ricetta otc medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco classe cn principio attivo aciclovir gruppo terapeutico antivirali forma farmaceutica mattita cutanea barra lapis indicazioni alovex labiale è indicato nel trattamento delle infezioni da virus herpes simplex delle labbra herpes labialis ricorrente negli adulti e negli adolescenti di età superiori ai 12 anni posologia adulti e adolescenti età maggiore di 12 anni alovex labiale deve essere applicato 5 volte al giorno di intervalli di circa 4 ore omettendo l'applicazione notturna alovex labiale deve essere applicato sulle lesioni o sulle zone dove queste stanno sviluppandosi il più precocemente possibile dopo l'inizio dell'infezione è particolarmente importante iniziare il trattamento di episodi ricorrenti durante la fase dei prodromi o al primo apparire delle lesioni il trattamento deve continuare per almeno cinque giorni e fino a un massimo di 10 se non si è avuta guarigione il medicinale deve essere applicato direttamente sulle lesioni senza utilizzare il contatto con le mani i pazienti devono comunque lavare le mani dopo l'applicazione è necessario evitare di sfragare inutilmente le lesioni o di toccarle con un asciugamano al fine di evitare il peggioramento o la trasmissione dell'infezione il medicinale deve essere considerato di esclusivo uso personale quindi una volta aperto deve essere utilizzato dallo stesso paziente per tutta la durata della vita del medicinale e non deve essere condiviso con soggetti diversi popolazione pediatrica la sicurezza e l'efficacia di alovex labiale nei bambini di età inferiore ai 12 anni non sono state stabilite controindicazioni ipersensibilità al principio attivo alvalacicloviro ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6 1 bambini di età inferiore a 12 anni avvertenze speciali e precauzioni di impiego alovex labiale deve essere impiegato solamente per l'herpes labiale presente sulle labbra non è raccomandata l'applicazione sulle membrane mucose come quelle della bocca o del naso degli occhi o della vagina vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codi fa.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione non sono state identificate interazioni clinicamente significative non si devono applicare altri tipi di prodotti dermatologici come cosmetici creme protettive solari burro di cacao o farmaci che trattano l'herpes contemporaneamente vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codi fa.it assumere alovex labiale durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere alovex labiale durante la gravidanza e l'allattamento gravidanza si deve considerare l'uso di aciclovir solo qualora i potenziali benefici superino la possibilità di rischi non noti tuttavia l'esposizione sistemica ad aciclovir a seguito di applicazione topica e vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codi fa.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari nessuno noto effetti indesiderati la seguente convenzione è stata impiegata per la classificazione degli effetti indesiderati in termine di frequenza molto comune e un decimo comune e un centesimo e un decimo non comune 1 1 0 0 0 0 vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codi fa.it sovradosaggio anche nel caso che venga ingerito l'intero contenuto di un contenitore di matita cutanea non si dovrebbero attendere effetti indesiderati proprietà farmacodinamiche categoria farmacoterapeutica antivirali per uso topico codice atc d 0 6 b 0 3 la ciclovir è un antivirale altamente attivo in vitro contro i virus service simplex tipo 1 e 2 varicella zoster la proprietà farmacocinetiche gli studi di farmacologia hanno rilevato solo un assorbimento sistemico minimale di aciclovir a seguito di somministrazioni ripetute a livello topico di aciclovir dati preclinici di sicurezza i risultati di un ampio numero di test di mutagenesi in vitro ed in vivo indicano che la ciclovir non comporta rischi genetici per l'uomo l'aciclovir non si è dimostrato essere elenco degli eccipienti castor oil gliceri di simi sintetici cera carnauba paraffina bianca cera d'api octildodecanolo butylidrossitoluene aroma vaniglia farmaci equivalenti i farmaci equivalenti di alovex labiale a base di aciclovir sono aciclinapiale mattita cutanea barra lapis aciclovir almus farm cicloviran lapiale e friviran lapiale mattita cutanea barra lapis zovirax labiale fonte foglietto illustrativo aifa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato farmaco esaminato farmaco esaminato